Non si arrestano i bombardamenti alla periferia di Stepanakert, nome armeno della capitale del Nagorno-Karabakh, chiamata invece Kankendi dagli azzeri. E questo nonostante le varie tregue negoziate e finite, come una scritta sul bagnasciuga. Gli ultimi bombardamenti hanno colpito anche l'ospedale. L'Azerbaijan ha preso di mira l'ospedale pubblico e il reparto di maternità. Durante i bombardamenti ero in ospedale, non ci sono state vittime, ma feriti fisicamente e a livello psicologico. Gli abitanti continuano ad abbandonare le proprie abitazioni. Non partirei, starei volentieri a casa mia, ma ci hanno detto che dobbiamo lasciare le nostre abitazioni perché gli azzeri bombardano i nostri villaggi. E questo mentre i loro cari vengono seppelliti. Intanto l'esercito Azzero ha registrato bombardamenti da parte armena nelle aree di Terter e Gubadli. E questo dopo i colloqui a Ginevra tra i ministri degli Esteri Armeno è a zero venerdì.